Sono Carlo Solomone, sono responsabile della delegazione Nord-Ovest dell'Associazione Italienata di Impreza e ho partecipato a questo corso come relatore. Devo innanzitutto ringraziare Skillab e Piccoli Industriali Torino perché già dall'anno scorso ci hanno dato l'opportunità come gruppo di lavoro IT di immaginare un corso di tesoreria per piccole imprese. Quanto è emerso in questa nostra attività e ringrazio moltissimi colleghi che hanno partecipato a questo è stato quello di poter avvicinare le competenze operative che soprattutto i colleghi hanno con le esigenze delle piccole imprese con dei risultati interessanti sia nelle variazioni immediate che le piccole imprese hanno avuto, sia negli spunti di approfondimento, pianificazione finanziaria e risk management che sono emersi anche recentissimamente e che ci fanno sperare in un'evoluzione ancora più positiva.